Raed Lux di Lattafa. Qui c'è una piramide che definire la piramide è poco, è più un'enciclopedia. Vediamo però se non è uno di quei minestroni che io ho già sentito in passato. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi voglio aprire questo video innanzitutto ringraziando singolarmente ognuno di voi che si è iscritto sul mio canale perché veramente oggi abbiamo un numero che io non mi sarei mai aspettato. Siamo più di 400 persone che condividiamo quello che è una nostra passione per la profumeria. In particolar modo io cerco di portare la mia considerazione, i miei piccoli suggerimenti ma per quello che sono ovviamente sempre dei miei gusti personali. E quindi ecco ci tenevo a ringraziare tutti voi singolarmente, quelli che si iscrivono, anche quelli che abbandonano il canale perché comunque mi danno sempre degli spunti in più per cercare di migliorarmi. Ringrazio innanzitutto anche tutti coloro che mi iscrivono, che scrivono nei commenti, che condividono le loro opinioni, le loro esperienze, i loro gusti personali. Lo scopo del canale è proprio questo. Quindi grazie, grazie mille a tutti, tutti voi. Allora, oggi voglio presentarvi la Taffa Raed Luxe. Questo è un profumo che mi ha incuriosito tantissimo. Vi lascio poi come sempre sparsi un po' in giro per i video quello che è la piramide olfattiva. Anzi, partirei subito direttamente da qui perché definirla una piramide olfattiva secondo me è un po' riduttivo. Nel senso che più che una piramide per me è un'enciclopedia vera e propria. Vi accenno velocemente le note così almeno abbiamo un po' chiaro quello con cui dovremmo andare a confrontarci. Apertura, ginepro, anana, scocomero, gelsomino, fiore di albero della seta e peperosa. Centrali, lavanda, salvia, notte erbacee, cannella, base, ghiaccio, ambra, fragola, vetivè, vaniglia, muschio, fava tonca, sandalo e castano. Allora, sono un po' come dire tra il curioso e il perplesso perché in passato con questo genere di piramide olfattive non ho avuto delle esperienze positive per quanto mi riguarda e quindi per quanto riguarda esclusivamente il mio gusto personale nel senso che ritengo che avere così tante note all'interno è difficile poi dopo riuscire a bilanciarle difficile poi dopo riuscire quantomeno a riconoscerle e poi riuscire a valutarle nella piena evoluzione del profumo. Vediamo se con questo l'attafa devo andare a smentirmi oppure no. Facciamo una cosa, bando alle ciance, iniziamo ad aprire la confezione che poi è quello che interessa a tutti noi ovviamente. Allora, senza divulgarmi troppo su quello che è il packaging che per me è in assoluto un signor packaging abbiamo un rilievo leggermente satinato con il marchio lattafa e questo bollino d'oro in rilievo scratch and check per l'originalità dietro abbiamo tutto quello che riguarda il profumo dove è fabbricato sono tutti fatti l'attafa negli emirati arabi e quindi rispetto ad Armaf non vengono fatti un po' o meglio trovati un po' fatti negli emirati un po' fatti in francia. Poi su Armaf però approfondiremo successivamente un po' il ragionamento. QR, chiedo scusa, barcode con i simboli di smaltimento e poi sui lati è tutta dorata. È un cartoncino, però veramente l'impatto come ho già detto, già ridetto nei video precedenti lattafa a me piacciono veramente in maniera assurda. Allora vediamo come si apre il profumo. Ah, ok, allora. Sì, è un po' storto all'interno però vabbè, ok, questo è l'apertura, questa è l'apertura quindi anche qua obiettivamente dal confezionamento, dal packaging, l'impressione è quella veramente di un prodotto di un'altra fascia prezzo, un'altra categoria, insomma, qualcosa di più costoso e di più prezioso. Ecco, passatemi, passatemi in termine. Allora, per quanto riguarda l'ultima cosa che vi voglio accennare, scusatemi perché sennò non mi ricordo tutto, voglio dirvi quanto è stato pagato questo profumo che è l'attafa Raed Luxe Eau de Parfum Unisex nel formato da 100 ml l'ho pagato 18,45 euro, se riuscite a vedere i prezzi, questi sono tutti i prezzi dell'ordine che avevo fatto su casadelprofumo.it Ok, allora, vediamo dunque, vediamo un po' questo Raed, come si presenta, boccetta liscia, stondata, carina, tappo blu con un fiocchettino legato, stile pacco da regalo, carta da pacco regalo, natalizio, che non mi dispiace assolutamente, tappo in plastica leggero, sopra il tappo non abbiamo praticamente nulla, vedo che è un po' rovinato, vedo bene? Sì, ok, sul cap, quindi sul tappo in alto è leggermente rovinato, non so se riuscite a vederlo, è la prima volta che mi capita con l'attafa, però succede insomma. Dopodiché abbiamo l'etichetta qui sul frontale e sotto l'immancabile bollino di l'attafa. Allora, vediamo un po' quali sono le prime impressioni di questo profumo, e soprattutto vediamo anche com'è l'erogatore. Ok, forse si poteva fare un po' meglio sull'erogatore, però vabbè, comunque è accettabile. Uff! Allora, il profumo in apertura è abbastanza difficile da comprendere, ma me lo immaginavo, però ho l'idea che sia qualcosa di freschissimo. Viene nota alcolica, lasciamola un attimo sparire, vediamo cosa succede. Allora, il profumo è freschissimo, il profumo è ultra 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 estivo, ricorda qualcosa, ecco, all'apertura ricorda leggermente Dior Sauvage, l'eau de toilette, però non credo c'entri nulla, però l'apertura è molto 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 interessante, molto fresca, si sente leggermente l'ananas, accompagnato da questo pepe rosa, però veramente il profumo è gradevolissimo. Allora, come sempre facciamo così, io mi assento per un po', per voi, però scusatemi un attimo, perché ho la sensazione che in questo momento mi bruci un po' sulla pelle. Forse è dovuto al fatto che anch'io comunque sono un po' come dire, ho dovuto utilizzare la pelle, ho preso un po' di sole, insomma, ecco, diciamo che a me il sole non è che mi aiuti tantissimo con la pelle. Facciamo così ragazzi, datemi il solito tempo e periodo per cercare di capire nel medio termine come si comporta il profumo e ci vediamo tra poco. Eccoci ragazzi nuovamente online per le ultime considerazioni finali su questo profumo, la Taffa Raed Luxe, formato 100 ml e Eau de Parfum. Allora, male, 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 molto, molto, molto male, mi dispiace ma purtroppo, e qui non è tanto una questione legata al gusto personale, perché obiettivamente il profumo è assolutamente gradevole. Con Dior Savage o de Toilette non c'entra assolutamente nulla, è stata soltanto un'impressione in apertura, ma il profumo di per sé è veramente, veramente gradevolissimo, perché è qualcosa di assolutamente fresco, assolutamente primaverile, assolutamente estivo. In apertura, vabbè, io con questi minestroni qua, mi rimane sempre il dubbio, ma vabbè, è un mio concetto, è una mia opinione assolutamente personale, ci saranno fior fior di nasi ultraprofessionisti che ritengono che certe piramide olfattive non si riescano a comprendere, non si riescano, non siamo pronti per queste cose qua, ma dal mio punto di vista, per quanto riguarda Roby a livello personale, non mi riguardano, non mi riguardano perché se una cosa mi piace, mi piace, se una cosa non mi piace, non mi piace, non è che forse mi piace, forse non mi piace, o forse me la farò andare bene più avanti, quando avrò annusato 5.000 profumi e avrò fatto un milione di corsi. Non è tanto quello il concetto, la cosa che mi fa incazzare di questo profumo qua, che ha un'apertura dove comunque sia il ginepro, sia un po' il pepe rosa, e sia comunque il gelsomino, adesso mi aiuto perché qui ce n'è 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 27 note ci sono all'interno del profumo. Questo profumo qua è gradevolissimo, cioè è qualcosa che mi riporta un po' indietro nel passato con quel profumo di pulito, quel profumo di bucato, quel profumo di quei bagnoschiuma anni 80, anni 90, per darci un'idea, che ti danno proprio quella sensazione di fresco, di pulito, perdonatemi se insisto con queste due parole, ma credo che sia il concetto migliore da esprimere per farvi capire questo tipo di profumo, chi è in buona sostanza. Lavanda, i fiori, insomma i fiori la fanno abbastanza da padrona, ma non sono quei fiori che ti stancano, che danno un femminile, il profumo è prettamente maschile dal mio punto di vista, purtroppo la pecca grossa di questo profumo qua è la durata, io forse sono stato troppo fortunato con i precedenti profumi, con i precedenti video, poi magari vi lascio qualcosa qua un po' sparsi in questo video, però ecco, obiettivamente mi aspetto qualcosa di più, cioè passato un'ora e mezza il profumo non c'è più, sui vestiti praticamente è inesistente, chiude con del lieve muschio, con delle note vanigliate, ma sono, come dire, è talmente rapido, è talmente veloce l'evoluzione che praticamente passa in sordina un po' tutto il resto. Per quanto riguarda tutto, forse un po' di vetivè in generale qua e là, sparso, ma mi dà l'idea di essere un profumo che, come dire, chi l'ha ideato ha detto, ma sì, mettiamoci questo, ah no, però poi dopo mettiamoci un po' anche di questo, un po' di quello, un po' di questa, cioè non c'è stato un filo logico nel farlo, fermo restando che ribadisco, a me personalmente il profumo piace, il profumo è un profumo, come dire, delicato, un discorso legato alla pelle, prima allo spruzzo non c'entra assolutamente niente, ero io perché poi dopo l'ho reindossato adesso, perché non c'è più niente, per cercare di capire un attimo e di ricordare che cosa fosse, ma obiettivamente questo profumo qua di Latafa io lo boccio senza se e senza ma, proprio perché non si può, non si può dover indossare un profumo in questa maniera, perché di questo si tratta, io devo bagnarmi completamente il braccio per avere una botta alcolica iniziale in apertura e poi iniziare a capire quello che c'è dentro, che però sparisce in un nanosecondo, mi dispiace, mi dispiace, sono deluso, può capitare, qualcosa che non mi piace esiste, fortunatamente, perché sennò non sarei, credo del tutto normale o obiettivo, che forse è la parola più adatta, volete provarlo, ragazzi, io sinceramente vi consiglio di optare su qualcos'altro, fermo restando, ripeto, a me il profumo piace, a me il profumo dà quella sensazione di fresco, dà quella sensazione di attratti leggermente saponoso, che ti fa, come dire, anche nelle giornate più calde, risultare quantomeno fresco, ecco, al naso del tuo e al naso degli altri. Per il momento io ho concluso, la tafara head, come vi dicevo, purtroppo mi sento di bocciarlo, questo non significa che a voi non debba piacere, però obiettivamente è un profumo che utilizzerò raramente, difficilmente se anzi, impossibile che andrò a ricomprarlo. Con questo è tutto, vi ringrazio, ci sentiamo nel prossimo video con altri importanti novità. Non mancate, buona giornata da Roby, ciao!